Dottoressa Peluche, rallenta Riccardo! Dotti e il suo fratellino Donny sono pronti a sfidarsi in un'emozionante corsa. Riccardo è la macchinina più veloce del mondo, esclama Donny. Dici che batterà perfino la mia automobilina gialla, chiede Dotti. Sicuro, e oggi vincerà anche la supercorsa che ho organizzato, replica il bimbo. 3, 2, 1, partiti! La gara comincia e le macchinine telecomandate corrono veloci sulla pista. Riccardo è davvero velocissimo e supera la macchinina di Dotti. Ancora un giro e il primo posto sarà suo. All'improvviso però Riccardo rallenta e la macchinina gialla taglia il traguardo vincendo la corsa. Donny deluso getta via il telecomando. Non è possibile, esclama. Dotti è un po' dispiaciuta, in più le sembra strano che Riccardo abbia perso. In quel momento si avvicina anche il papà. È ora di fare un riposino, Donny. Ti servirà a ricaricare le batterie, esclama. Ma io non ho sonno, sono solo arrabbiato perché Riccardo ha perso la gara. È diventato lento, protesta Donny. Intanto Dotti osserva Riccardo. Non ha mai fatto così. Credo che non stia bene, pensa. Proverò a capire che cosa non va. Quando ti sveglierai dal riposino Riccardo starà meglio, promette Dotti a Donny. Il bimbo annuisce e segue rassegnato il papà in casa. Non appena Dotti resta sola, il suo stetoscopio inizia a brillare e come per magia i giocattoli che porta con sé prendono vita. Ciao Riccardo, esclama Draghetto. Che bello vederti, aggiunge Bianchina. Dotti nota subito che la macchinina ha l'aria preoccupata. Riccardo infatti non si sente in forma. Di solito corre veloce come il vento, ma ora il suo motore sembra addormentato. Non voglio deludere Donny, come farò a gareggiare oggi pomeriggio? Si chiede sospirando. Dotti tuttavia lo rassicura. Poi lo posa a terra e gli chiede di provare a correre. Riccardo obbedisce, ma quando tenta di partire non ce la fa. Che cosa mi sta succedendo? È come se le mie ruote non volessero girare, si lamenta. Hai bisogno di una visita, esclama Dotti. Poco dopo infatti i nostri amici sono in clinica. Dotti controlla il motore di Riccardo, ma non trova niente fuori posto. Ora fai... Brum, brum, gli chiede. Riccardo ci prova subito, ma emette solo un rumore così debole, che quasi non si sente. Mi sembri proprio stanco. Forse ieri sera hai corso troppo, commenta Erly. Proprio così, esclama Dotti. So cosa fare. Poi disegna Riccardo nel grande libro della bua. Le sue batterie sono scariche, è per questo che non riesce a correre. Per risolvere il problema, Dotti chiede a papà di collegare Riccardo al suo caricabatterie. Poco dopo Riccardo si sente meglio, proprio come Donny, che si è appena svegliato ed è pronto a giocare con il suo amico Luca. Sarà una corsa fantastica. Brum, Riccardo è in forma perfetta e taglia il traguardo, aggiudicandosi il primo posto. Visto? Per ripartire alla grande ogni tanto bisogna rallentare, commenta Dotti felice. Fine.